Signore e signori, facciamo un sondaggio. Chi è Alexis Tsipras? Un pericoloso comunista venuto dall'est che divora i bambini e minaccia la chiesa cattolica. Oppure un grosso e grasso greco che mangia sublacchi e balla i sirtachi. Oppure uno che ha la stessa età di Renzi, però è di sinistra. Dubbiosi? Bene, lo scopriremo giovedì 3 aprile nell'aridente Palermo per il primo comizio italiano di Alexis Tsipras, candidato presidente UE della lista L'altra Europa con Tsipras.